Radio Radicale, siamo con Benedetto della Vedova per parlare di alleanze di centrosinistra di campo largo. Allora, la necessità di un'alleanza di centrosinistra è quella di avere una gamba moderata o comunque una gamba liberale e lei fa parte di quest'area. In questa, diciamo, area si candida ad entrare anche Matteo Renzi. Abbiamo visto che si è innescato un dibattito importante su questo, diciamo, in parte smentito da Calenda, che ieri in un'intervista ha criticato l'azione di Renzi. Allora, lei che è, diciamo, reduce dalla lista di scopo con Renzi, che cosa può dire di questa iniziativa e se crede a questa sfida? Perché il risultato delle europee non è stato negativo. Avete superato l'asticella del 3%, che era un'asticella importante se teniamo conto dell'attuale legge elettorale nazionale. Quali sono le sue riflessioni? Io penso che la riflessione che gli europeisti liberal-democratici, riformatori, radicali, riformisti, laici, prendiamo le etichette che vogliamo, la riflessione che devono fare è come e dove sviluppare un'iniziativa politica che possa essere incisiva e utile all'Italia in un momento in cui ci sono questioni esistenziali per la democrazia o per il tipo di democrazia che si vuole per l'Italia e per l'Europa. Io ho sempre, ho detto anche di recente, rispetto all'evocazione di un terzo polo, che casomai ci vuole un polo non terzo, cioè un'aggregazione su base federativa di comuni intenti, come Stato, Stati Uniti d'Europa, che abbia un obiettivo, quello di costruire le ragioni politiche e programmatiche per un'alleanza elettorale con il PD e gli altri suoi alleati. Io penso che noi non siamo un pezzo culturale, politico del centro-sinistra, perché c'è, ma dobbiamo puntare a fare un'alleanza con quel centro-sinistra portando la specificità delle storie politiche da cui proveniamo e di un'impostazione che vede l'Europa al centro, che vede il sostegno all'Ucraina, l'atlantismo nonostante Trump, contenimento del debito pubblico e quindi un approccio ai conti che non sia spendi e spanni. E dobbiamo lavorare su questo. Renzi, non so se sia un velista, io non sono un velista, poi ci ha abituato alle strambate, come questo salto molto netto. Detto questo, io credo che quella debba essere la direzione, ma ripeto, per me è costruire le condizioni politiche e programmatiche per fare un'alleanza con il PD e gli altri suoi alleati. che per più Europa non è in sé una notizia, l'abbiamo fatto nel 2018, l'abbiamo fatto nel 2022, l'abbiamo fatto nelle elezioni comunali e regionali dove siamo stati presenti Campania, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte due volte, Firenze, Milano, però non è una cosa che va data per scontate acquisite. Gli altri alleati sono d'accordo, secondo lei? Conte, AWS? L'Uda Renzi? Io penso che poi il pallino su questo debba rimanere nelle mani, cioè il pallino ce l'abbia il PD. Io penso che sarebbe, io non do nulla per scontato, a differenza di Calenda e di chi vuole costruire un polo terzo, io dico che il nostro polo non deve essere terzo, la direzione di marcia e l'obiettivo da conquistare deve essere quello, quindi c'è una distinzione molto netta tra la posizione mia o quella di Calenda. D'altra parte nel 22 Calenda ha scelto di fare il terzo polo, di candidarsi in prima persona emblematicamente contro Emma Bonino e quindi hanno fatto una scelta che ha finito per favorire Meloni e Salvini. Per me l'equidistanza non è un'opzione, è un lusso che oggi non ci si può permettere, se si guarda quello che effettivamente sta succedendo, che non è una semplice alternanza dentro, direbbe la Meloni, un mainstream comune. C'è il tentativo di forzare la mano e incamminarsi su un percorso di divergenza dall'Europa e di superamento della democrazia, come l'abbiamo conosciuto. I voti, i veti degli altri non credo che abbiano senso, ma questo però starà al PD e alla SLAIN lavorare. Senza, a mio avviso, è essenziale, se SLAIN e al PD vogliono guidare una coalizione che possa avere chance per vincere, pensando a quello che è successo anche in Francia e per certi altri aspetti in Gran Bretagna col voto tattico, i liberaldemocratici, chiamiamoli così, europeisti, riformatori, sanno che oggi l'unica chance per tenere fede ai propri principi e valori è quella di un'alleanza col PD e con gli altri alleati. Il PD credo che sappia che è un'alternativa elettorale e di governo si costruisce anche negoziando un'alleanza con quelli come noi. Certo, l'ultima cosa è stato in generoso Calenda parlare di cespugli, di posti, è stato un po' sgredibile, no? Non lo so, è anche poco mi interessa. Calenda fece una scelta nel 2022 insieme a noi di alleanza col PD, peraltro loro non c'erano neanche i 5 Stelle, poi si tirò indietro, ma io credo che non è questione di dimensioni, è questione di prospettiva politica. Noi dobbiamo strappare le condizioni per un'alleanza per battere Meloni e Salvini che sono una roba impalatabile per chiunque ami la società aperta, l'Europa e i principi liberali. Questo non è nelle nostre disponibilità, diciamo, e sto separati, anche se a breve non mi sembra l'aria. Bene, grazie a Benedetto della Vedova.